ma non ci posso credere 700 cavalli di potenza 0 a 100 sotto i 3 secondi la trazione anteriore verrà elettrificata e gestita totalmente in modo elettronico da una centralina di che cosa sto parlando del grandissimo ritorno di alfa romeo con la nuova 8c che monterà il motore montato su stelvio e su giulia che di base sviluppano 510 cavalli ma in questa occasione per la 8c verrà potenziato a circa 540 550 cavalli e per arrivare ai fatidici e passare i fatidici 700 cavalli all'interno della scatola cambio verrà utilizzato il sistema kers di derivazione la ferrari realizzato da magneti marelli che sprigionerà altri 163 cavalli in questo modo è garantito il sorpasso della soglia dei 700 cavalli il v6 biturbo di derivazione ferrari verrà montato in posizione centrale così da garantire una ripartizione dei pesi perfetta alfa romeo è tornata alfa romeo è tornata e lo sta dimostrando mcclare lamborghini ora incominciate a preoccuparvi alfa romeo è tornata a 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